Bene, innanzitutto penso che possiamo dire con riconoscimento reciproco che questa sera questa è una casa comune dove all'interno di un'assemblea istituzionale parlano, intervengono i cittadini e in qualche modo si rendono trasparenti e anche elegibili le scelte, le posizioni che emergono poi nelle decisioni che tutti i cittadini sono in qualche modo costretti a subire qualche volta e raramente hanno la possibilità di essere protagonisti nelle decisioni di questi servizi. Questa è una di quelle circostanze, noi abbiamo chiesto a tutte le amministrazioni comunali della provincia di convocare dei consigli comunali aperti perché dobbiamo partire da un dato penso oggettivo e irrinunciabile. Il 12 e 13 giugno la maggioranza del popolo italiano, la maggioranza dei cittadini bellunesi attraverso il referendum hanno dato un'indicazione puntuale, precisa e chiara su come deve essere gestito il servizio idrico integrato. Deve essere una gestione pubblica, partecipata, deve essere una gestione all'interno della quale non sono previsti margini di profitto e quindi su questi aspetti il popolo italiano si è espresso e a pochi mesi di distanza da quell'espressione del popolo italiano ci sono già tentativi nei governi nazionali e nei governi territoriali dei servizi per svuotare il referendum del proprio significato, della propria portata. Dopo 20 anni nel nostro paese non c'era un'espressione democratica diretta così forte, così significativa e così puntuale. I cittadini sono andati a votare in modo molto chiaro, vogliono che l'acqua sia a tutti gli effetti un bene comune e venga gestita in modo partecipato, trasparente e condiviso. Allora andiamo a verificare se questa cosa è esattamente, se questo bene è esattamente gestito così nella nostra provincia e che prospettive si aprono anche in relazione al documento dei sindaci e delle decisioni che sono nella discussione delle nostre comunità in questi giorni. Possiamo anche rivendicare una cosa con una certa oggettività. Noi dal 2007, attraverso la presentazione della nostra proposta di legge di iniziativa popolare, con un numero di adessioni di cittadini nel nostro paese dieci volte superiore a quelle che erano le necessità per la presentazione della legge, che è stata tenuta, guarda caso, nei cassetti del governo sino a questi giorni, adesso vedremo se il nuovo governo riaprirà anche la discussione su questi termini, si erano date queste indicazioni, si erano evidenziate le storture di un metodo del calcolo della tariffa che fa ricadere nei costi che i cittadini pagano tutta la gestione del servizio. E stiamo parlando di un servizio essenziale per le persone, perché senza acqua non si vive, senza acqua potabile non si vive. E quindi da questo punto di vista è subentrata nella normativa del nostro paese la scelta anomala di scaricare sulle tasche dei cittadini il costo complessivo dei servizi, deresponsabilizzando lo Stato e la finanza pubblica. Perché è giusto che i cittadini sappiano che oggi nella loro tariffa, e non sempre lo sanno, pagano investimenti, ammortamenti, costi di gestione, costi finanziari della gestione del servizio stesso, pagano tutto, a pie lista. E sono i cittadini che sono esclusi dal controllo e dalla trasparenza delle scelte di questa gestione. Come può accadere che il cittadino che paga tutto il servizio a pie lista non ha mai avuto la possibilità di essere coinvolto, di avere la possibilità di accendere ai dati reali di gestione, alle scelte operative, alle priorità operative di questo servizio. E mi fa specie che un consigliere comunale dica che ci sono già gli amministratori che sono delegati a rappresentare i cittadini in un servizio che in realtà pagano direttamente i cittadini con la loro tariffa in modo assolutamente complessivo. Perché evidentemente se paghiamo tutti siamo chiamati tutti a decidere su come questo servizio deve essere gestito. E questa è l'indicazione che ha dato il referendum. Allora anche qui noi non vogliamo assolutamente rimanere nella dimensione ideologica, vogliamo delle cose molto chiare come cittadini. Vogliamo innanzitutto che venga chiusa definitivamente la partita BIM-GSP perché ha determinato un incremento e un aumento e un consolidamento di esposizioni in debiti finanziarie di mala gestione determinata da scarsi e deboli controlli degli amministratori locali sulla gestione del BIM-GSP ed è una pessima gestione interna del BIM-GSP. Su questi dati penso che tutti siano d'accordo e chi non è d'accordo dovrebbe dimostrare che questo non è accaduto. Perché è esattamente accaduto questo e l'accumulazione dei debiti e delle esposizioni stanno a dimostrare esattamente questa cosa. Che si tratti di errori e di scarse valutazioni su consumi reali, che si tratti di trasferimento nel tempo dell'aggiornamento delle tariffe rispetto a questi mancati consumi, che si tratti di appalti non sempre trasparenti, che si tratti di organici enfatizzati in modo irrazionale e con competenza all'interno degli organici che non erano quelli utili per questo servizio, tutto questo insieme di cose hanno determinato questa situazione. E mi fa specie che qualcuno dica che se fossero stati privati la situazione sarebbe stata diversa perché questa è esattamente la conseguenza di un modello di gestione privatistica proprio dell'SPA, proprio dell'SPA. Sì, siccome siamo ospiti qua, c'è molta gente che non è forte negli altri, ci vorrebbe un po' più di rispetto per quest'aula fossiliare di persone elette democraticamente, quindi la CLAQ sarebbe da escludere a questa campagna. buon strano facendo un comizio. buon strano facendo un comizio. No, no, non siamo in campagna elettorale, eh? Mi sembra che dall'intervento si capisce insomma... Ma ma guardi la campagna è ancora... Banner? 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 Ma noi siamo consigliere comunale... Banner? Allora... E allora... E allora... Dicchi scusa... Consigliere di garli? Scusi... Scusa... Grazie... Allora... Un invito a tutti... Se vogliamo che queste occasioni di democrazia... Si ripetano... Senza che i sindaci, i miei colleghi... Abbiano paura di provocare i consigli comunali aperti... Io chiedo a tutti... E questa è la verità... Forse noi siamo... Non lo so... Un po' più spresiudicati degli altri... Nell'incoscienza ogni tanto... Però dico... Tutti... Non abbiamo assolutamente nulla da nascondere... E nulla da recriminarci... E cerchiamo di fare al meglio... La nostra attività civica... In seno all'amministrazione di Ponte delle Arti... Io chiedo a tutti... Un contenimento del contenzioso... Anche perché... Voglio veramente che da questo consiglio comunale... Vengano fuori considerazioni utili... Per migliorare quel documento... Per affrontare con più serenità... Le sfide... Io le chiamo così... Del futuro... Perché sul passato... Ormai credo che tutti... Abbiamo detto abbastanza... Abbiamo già... Messo gli accenti... Che andavano fatti... Sulle gestioni del passato... Io però... Ho il compito di... Guardare a domani... A come gestire questo senso... Quindi invito... Questo è un invito veramente caloroso... A tutti... I consiglieri comunali... Il pubblico... Eccetera eccetera... Grazie... E anche a essere abbastanza... Concentrati nelle dichiarazioni... Grazie... Assolutamente concentrato... Non ho citato null'altro... Che quello che emerge... Anche nello stato di esposizione... Debito e criticità finanziaria... Indicato dagli stessi sindaci... Quindi non ho fatto alcuna affermazione... Diciamo... La situazione oggettiva è questa... Ci sarà chi avrà delle responsabilità... Sul piano politico... Sul piano personale... Abbiamo sentito che... La Corte degli Incontri... Verificherà questi dati... E quindi... Evidentemente saprà... E speriamo sia in grado di leggere... Con puntualità... I bilanci... Così come si sono consolidati... Siccome non è nostra abitudine... Chiedere... Un radicale cambiamento... Senza fare delle proposte... Noi abbiamo presentato... In Parlamento... Una proposta di legge... Iniziativa popolare... Su come dovrebbe essere... Gestito il servizio pubblico integrato... Alla luce del fatto che... Stiamo gestendo un bene comune... Quindi con una dimensione partecipata... A livello territoriale... Abbiamo indicato... Alla delegazione dei sindaci... Quelle che sono le nostre proposte puntuali... Chiediamo... Chiudere la stagione di BIM-GSP... Con tutte le responsabilità... Che questo ne compete... E dare indicazione ai saggi... Non so se il sindaco... Ha dimenticato... Questo o non va citato... Di dare indicazione... Perché questo era... Immerso nella riunione con i sindaci... Che veniva data indicazione... Operativa e prescrittiva... Ai tre tecnici... Di costruire il passaggio... Da una gestione SPA... Di diritto privatistico... Ad un'azienda speciale... Di diritto pubblico... Nel consiglio di amministrazione... Dell'azienda speciale... Di diritto pubblico... Pensiamo... Che ci sia... Una componente... Di tre tecnici... E di due rappresentanti... Indicati... Dalle popolazioni... Dai cittadini... Delle associazioni territoriali... Come gesto... Di trasparenza... E anche perché sono poi... I cittadini... Che pagano... Di fatto... Il servizio... Chiediamo... Che contestualmente... Venga... Istituito... Un comitato... Di sorveglianza... Composto... Dalle organizzazioni... Territoriali... Dalle organizzazioni... Dei lavoratori... Del servizio... Dalle organizzazioni... Di cittadinanza... Con compiti... Di controllo... E di proposta... Da questo punto di vista... Per quanto riguarda... Gli aspetti finanziari... Non siamo assolutamente d'accordo... Che venga fatto carico... In questo momento... Con questa gestione... Ai cittadini... Di alcun costo aggiuntivo... Visto che questa proposta... Dei 100 euro... Non può essere delegata... A una gestione... A un'organizzazione... Che ha determinato... Quel popò... Di esposizione finanziaria... E questa questione... Dei finanziamenti... Va apposta... Alla nuova... Azienda speciale... Partecipata... Dalle comunità territoriali... Attraverso strumenti... Che verranno individuati... Da questo nuovo modello... Di organizzazione... Nella nostra proposta... Di legge di iniziativa popolare... Abbiamo detto... Che deve essere recuperata... La fiscalità generale... Che vanno recuperati... Risorse economiche... Da un punto di vista... Della gestione... Dei canoni... Del demanio... In questa fase... Di emergenza... Perché il sindaco... Diceva... Che c'è anche un'emergenza... A medio e lungo termine... E un'emergenza... Nell'immediato... Nell'immediato... Noi diciamo... Che il consorzio BIM... Con le proprie risorse... Si faccia garante... Di copertura... Delle necessità... Immediate... Di BIM... GSP... Per il funzionamento... Del servizio... Nel breve termine... Poi... Va aperta... In prospettiva... La grande questione... Che noi solleviamo da tempo... Di andare a contrattare... Anche... Il recupero di risorse... Fondamentali... Nel ciclo dell'acqua... Attraverso... Una reale contrattazione... Con me... Nelle altri... Grandi soggetti... Che utilizzano... Storicamente... Le concessioni... Le derivazioni... Nella nostra provincia... E che non rilasciano... Alcun interesse economico... E alcun gettito... Per le comunità territoriali... Dei profitti... Che realizzano... Nella nostra provincia... Ecco va... Bene... Allora...